wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo nostro nuovo video io sono xyuder e io sono depez ragazzi benvenuti di nuovo stiamo facendo che cosa signor depez allora oggi andremo a mostrarvi la missione quella da 10 stelle dove dove troveremo la stella giustamente giustamente bisogna cercare tra un grande schermo una macchina rosa e degli alberi quindi il signor depez prima l'ha trovata ragazzi quindi noi lo seguiamo credo che ci sarà un bel po di cinema eh perché siamo tutti qua quindi ragazzi nel dubbio prendo un'arma e che ti rompe le uccide tutti va benissimo io guardi allora quasi quasi lei si ricorda dov'è giusto yes benissimo benissimo allora sarà lei l'apripista qua ci sono le case le state vedendo ragazzi vi ricordo come vi ha detto il nostro depez 10 stelle vuol dire un livello del pass battaglia quasi a gratis praticamente con poca con poca fatica allora prendiamo due armi andiamo a prendere la stella proprio al volo non ci sono armi quando lei ha l'arma riuscendo allora io la seguo si si aspetta neppure giù che te la porto ok ok tenga idea che l'hai ce l'ho ce l'ho sulla pistola prendo anche il vampa andiamo mi faccio vedere dove è seguiamo il nostro depez ragazzi che lui sa dov'è sempre saltando mi raccomando non dimenticate mai di farlo attenzione eccola qua ragazzi la stellina gg grande dep vieni qua che facciamo poi la foto per la miniatura bellissima stai fermo lì noi ragazzi ce la andiamo a prendere 10 stelle un pass battaglia un livello del pass battaglia guarda tu ci mangi dei pop corn ci mangi dei pop corn ok andiamo a giocare vai vai gg ciao